Dottoressa Garboni, intanto io la ringrazio per questa sua presenza nei nostri studi, perché chiaramente volevo con lei fare uno speciale anche per far sì che i nostri telespettatori conoscessero meglio chi è Simona Carbone. Allora, intanto lei ha avuto e credo che abbia ancora dei ruoli importanti a livello nazionale. Sì, diciamo che è una storia che nasce sui livelli nazionali, diversi anni con Agenas, anche all'interno dei territori, tra cui la Regione Calabria, territori di regioni in piano di rientro. E poi l'incarico di direttore dell'ufficio sesto della direzione della programmazione del Ministero della Salute, che appunto mi ha permesso di approfondire, comunque di gestire le regioni in piano di rientro e anche monitorare le regioni dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza. Quindi lei ha un'idea chiara della sanità in Italia, ma soprattutto credo che lei abbia un'idea chiara di quella che è la situazione della sanità in Calabria. Sì, ho un'idea chiara delle organizzazioni, quindi degli assetti organizzativi nazionali e quindi delle singole regioni. Questo che, insomma, mi ha permesso il lavoro svolto da direttore dell'ufficio 6 da un punto di vista dei livelli essenziali di assistenza. Ma anche sulle regioni in piano di rientro, che ormai seguiamo, prima operativamente anche in sede in Calabria e per poi passare sul livello ministeriale, sin dal 2009. Quindi hanno di fatto dell'entrata della regione Calabria in piano di rientro. Quindi conosco le situazioni delle regioni e in particolare della nostra regione, che ripeto, ho seguito sin dall'inizio. Qual è la situazione regionale, nonostante l'impegno del Presidente, nonché commissario regionale della Sanità, ho chiuto. La situazione regionale è un po' quella che viene raccontata durante le verifiche trimestrali del piano di rientro. Devo dire che, e questa è stata anche determinata, una motivazione che ha determinato la mia scelta, che la regione Calabria, con finalmente la possibilità di avere il commissario, anche Presidente di Regione, di fatto sembrerebbe o comunque intrapreso un percorso più di contesto. è evidentemente più forte anche rispetto alle scelte e agli investimenti che in questo momento si stanno programmando. Quindi un cambio passo sicuramente. La situazione Calabria è quella che leggiamo da un punto di vista economico-finanziario con un recupero su quello che sono le risorse o comunque una diversa determinazione di quelli che sono i debiti, ma è anche vero che c'è, come più volte è stato detto anche dal commissario, un forte investimento su quelli che sono i servizi e l'assistenza ai cittadini. Quindi è chiaro che con questo nuovo programma operativo e con tutte le attività che sta mettendo in programma, comunque sta attivando la regione in questo momento, dovremmo tentare di recuperare e di reinvestire, cosa che evidentemente nel tempo non si è fatto, sui servizi e sulle risposte assistenziali ai cittadini. È chiaro che la fase è diversa. Si passa da una fase che era puramente programmatoria e quindi comunque di definizione di quelli che sono gli atti di programmazione. Oggi la sfida per la nostra regione, che ha assunto evidentemente il commissario, è passare all'operatività. Confido, la mia scelta la dice lunga, che si stia intraprendendo una strada ovviamente lunga e faticosa anche per recuperare il pregresso di ritorno, quantomeno al recupero delle risposte che la sanità calabrese deve iniziare a dare. Parlando della sanità di Crotone e del ruolo che lei svolge, ci sono degli obiettivi primari? Sì, io chiaramente gli obiettivi sono quelli che ci vengono dati dallo stesso commissario, quindi insomma sono abbastanza tracciati. È chiaro che il contesto poi insomma mi ha indotto a fare almeno a tracciare quelle che sono le priorità e dal mio punto di vista certamente per partire poi con modelli organizzativi più evoluti non si può che provare o comunque immediatamente mettere a terra, quindi operativizzare, le riorganizzazioni attraverso una riorganizzazione degli spazi, come ho detto, e quindi degli assetti organizzativi dell'ospedale ma anche sulla parte territorio. Sull'ospedale è chiaro che dopo anni insomma di non ricambio comunque non si, mancato turnover del personale bisogna certamente investire non solo sul numero delle risorse ma anche sulla riattivazione di reti che permettano comunque un posizionamento anche dell'azienda sia a livello regionale ma anche nelle reti nazionali e quindi un investimento sugli scambi sulle buone pratiche che certamente innescono dei meccanismi virtuosi. C'è un problema poi di procedere con i concorsi, io l'ho detto anche in precedenza, lo ripeto, primi fra tutti è quelli di assumere o comunque trasferire le responsabilità ai direttori delle strutture complesse. e poi immediatamente provare a insomma ripetere o comunque concordare anche con la Regione le modalità e delle soluzioni che ci permettono di far fronte a quella carenza di alcune specialità che ormai è nota in tutta Italia. Stessa cosa vale sul territorio, sul territorio ci vuole un forte investimento organizzativo e diciamo che la stagione adesso ce lo permetterà perché sia a livello nazionale iniziano ad esserci delle linee di indirizzo, prendiamo il DM77 che prima evidentemente non erano presenti, ma anche le risorse sul PNRR e quindi questo per quanto il lasso di tempo comunque la programmazione è di medio-lungo termine, sappiamo tutti che insomma la deadline conclude le attività al 2026, abbiamo alcune leve che ci permettono di anticipare e di innescare dei meccanismi evidentemente virtuosi proprio per dare il ruolo al territorio e ridare il ruolo di risposta all'acuzie all'ospedale. Quando parliamo dell'ospedale parliamo di reparti come il pronto soccorso, il 118 che hanno veramente tante difficoltà, ma non sono solo questi i reparti che hanno bisogno di un ricambio generazionale ma anche di una presenza costante per evitare dei turni veramente impossibili. Sì, il tema del pronto soccorso è ovviamente un tema nazionale come nota a tutti, il nostro risente anche di una organizzazione degli spazi che non permette alcune soluzioni anche di risposta immediata all'accesso e questo è già come è noto in via di operatività che è proprio il progetto di costruzione del nuovo pronto soccorso. Quindi questo già l'organizzazione degli spazi ci permetterà di ottimizzare alcune risposte che in questo momento evidentemente in ospedale non sono semplici. Poi c'è la questione della carenza del personale, questo è un tema nazionale sul quale spero che si intervenga al più presto e c'è un problema anche per quanto ci riguarda di organizzazione attuale dell'ospedale che avendo il reparto Covid posizionato al primo piano dell'ospedale non permette alcune soluzioni che anche nell'emore dell'attivazione del nuovo pronto soccorso evidentemente ci darebbe, ma non solo. Abbiamo il problema del numero di personale in pronto soccorso. Devo dire che su Crotone ad oggi stanno mantenendo, stanno tenendo con, come diceva lei, turni e insomma anche oltre gli orari di lavoro e devo dire che insomma la situazione per il momento è sofferente ma ancora sotto controllo. è anche vero che il nostro è un DEA di primo livello, gli accessi in pronto soccorso se non in particolari orari della giornata, evidentemente anche in particolari periodi sono bene o male prevedibili o comunque conosciuti dagli addetti ai lavori. Quindi diciamo che per il momento stiamo mantenendo, certo andrà fatto l'investimento sul numero delle risorse nel più breve tempo possibile. Per la neuropsichiatria infantile? La neuropsichiatria infantile è ripartita, sta ripartendo con personale e anche con medici molto giovani. È chiaro che sono in una fase di organizzazione, ho avuto modo anche di verificare nella mia visita all'ospedale, stanno riorganizzando gli spazi, anche lì hanno bisogno di un rafforzamento del numero di risorse e quindi di personale per andare a regime con un servizio che devo dire spero che su Crotone potrà a breve tornare o anche migliorare la risposta. Lei ha fatto il giro di tutto il territorio quindi conosce quella che è la situazione, non abbiamo il problema della viabilità ad esempio, quindi chiaramente se nel nostro territorio ci sono dei punti di riferimento che siano più vicini del nostro ospedale questo è importante. Qual è la situazione a suo parere? Sì, è un problema di viabilità, è anche vero che i percorsi non sono poi così ampi. Quindi era proprio su questo che ragionavo questa notte, semmai provando a vedere con le istituzioni che sono delegate di poter provare a fare un ragionamento anche sui trasporti all'interno della città e ovviamente su punti strategici dove evidentemente possono anche arrivare gli altri mezzi che permettono gli spostamenti più veloci. Non le nasconto che stavo facendo questo ragionamento proprio ieri tra me e me e sarà mia cura verificare come migliorare l'accesso o comunque, sì sì, diciamo l'accesso all'interno di strutture che in questo momento risulterebbero maggiormente decentrate. Maggiormente decentrate perché come si sa lo stabile di Corso Messina che prima serviva direttamente, insomma era più di prossimità rispetto al centro di Crotone è in questo momento in via di riorganizzazione e comunque sottoposto ai lavori previsti dal PNRR. Ho fatto un giro pure al poliambulatorio di Tufolo la scorsa settimana e devo dire che i lavori anche di, insomma, ampliamento degli spazi e parcheggi mi risultano essere abbastanza avanzati. Bisogna collegarlo alla città certamente e sarà mia cura approfondire questo tema. Per quanto riguarda il territorio Mesoraga, Petilia, a quelli che sono i comuni un po' più distanti da noi, ecco, lì e qual è il suo impegno? Allora io intanto settimanalmente ho programmato di andare ovviamente confrontandomi con i referenti di quei territori. Ho chiesto al direttore di distretto proprio ieri di rafforzare la presenza perché questo è importante sia per i dipendenti che evidentemente lavorano in queste sedere diciamo decentrate rispetto alla sede centrale dell'azienda ma sia per efficientare e tentare di, quello che dicevo qualche giorno fa, di innescare i meccanismi aziendali. Voglio dire che riconoscesi tutta all'interno alcuni processi, alcune procedure, alcune regole che necessariamente devono essere coordinate anche con i due subdistretti. Quindi dobbiamo dire che il suo impegno è per tutto il territorio. Come commissario dell'Asp il suo intento è quello di dare un contributo per migliorare la qualità del servizio sanitario. Assolutamente sì, ripeto con una grande attenzione ai territori, quindi ai comuni e ai referenti pure agli altri due subdistretti. Ho veramente interesse perché l'offerta e la risposta territoriale sia fornita a tutto il territorio provinciale. Quindi c'è un forte investimento sulla parte territoriale oltre che il miglioramento dell'assetto organizzativo dell'ospedale nell'ottica ovviamente di ridare dignità all'ospedale e anche rafforzare la parte territoriale. Non a caso, dicevo qualche giorno fa, questo investimento, adesso stiamo provando a sottoscrivere dei protocolli con enti pubblici del servizio sanitario regionale per migliorare e innescare meccanismi di percorsi diagnostici che ovviamente ci permetteranno un'integrazione reale in particolare sulla parte di cronicità e comunque sulla presa in carico dei pazienti in un'ottica fortemente integrata a ospedale e territorio. Il rapporto sanità pubblica e privata qual è? Io ho avuto modo, non ho avuto modo ancora di conoscere o comunque approfondire gli erogatori privati, cioè il rapporto con gli erogatori privati. Abbiamo sottoscritto i contratti che insomma, come stiamo nella fase di sottoscrizione dei contratti, finalmente la Regione ha pensato di programmarlo per un triennio a partire dal 2022 e questo dà anche una stabilità all'offerta del privato. Io ho la mia idea che il privato integra certamente la parte pubblica e in questo rapporto di scambio che deve essere ovviamente costruttivo, che deve essere di reale integrazione, che deve essere di partecipazione a quella che è l'organizzazione dell'offerta e della risposta sul territorio per approfondire anche quella che è l'attuale situazione con i privati da un punto di vista ospedaliero ma molto anche sulla parte territoriale. Lei ha ragione perché non ci deve essere competitività tra il pubblico e privato, ci deve essere collaborazione anche perché uno dei problemi dolorosi del nostro territorio è l'immigrazione sanitaria. Certo, assolutamente. Quindi se ovviamente l'offerta, il fabbisogno è programmato con risposta pubblica e integrata dalla parte privata, dobbiamo rafforzare proprio questo rapporto per migliorare e per evitare che i nostri cittadini continuino a migrare verso città del nord. Su quello, a breve, spererei tra i tanti progetti che abbiamo, seguendo pure quelle che sono le linee di indirizzo regionali sul recupero della mobilità, di mettere a terra o comunque di programmare un progetto che ci permetta quantomeno di limitare le migrazioni per quell'attività di bassa e media complessità che certamente il nostro territorio può erogare. C'è necessità anche per quanto riguarda i servizi di un know-how? Sì, c'è necessità di un know-how, c'è necessità di ammodernamento tecnologico, c'è necessità di digitalizzazione. Tutte attività che sono in programma, in agenda col PNRR e che ovviamente stiamo tentando, in accordo anche con, ripeto, con la Regione, di anticipare per quanto più possibile. È necessario avere in disponibilità i dati perché ci sia chiarezza e anche capacità di lettura. Questo ci permetterebbe di agire tempestivamente su alcuni elementi che evidentemente, se non resi chiari o se non letti in tempo, ci potrebbero sfuggire e comunque non permetterci di essere tempestivi. Quindi certamente un investimento, ma è una mia deformazione professionale, su quelle che saranno i sistemi informatici e informativi delle aziende, ma anche la capacità da parte degli uffici amministrativi, in questo caso, ma certamente anche di quelli sanitari, di lettura di quelli che sono i dati di attività proprio per essere consapevoli dei livelli di assistenza che riusciamo a derogare e sui quali evidentemente dovremmo velocemente agire. Con il suo team lei sta lavorando a 360 gradi. Il suo incarico, il suo mandato, è un mandato a tempo determinato o, visto questo impegno che sta mettendo in campo, ci sarà la possibilità che rimanga al capo dell'azienda per far sì che veramente si arrivi a trovare la soluzione di tutto quello che stiamo dicendo? Certo, è chiaro che ascoltandomi e anche pensando con me stessa, il mio ospicio è che ci possa essere una continuità. È chiaro che nella misura in cui io ho accettato la proposta del Presidente e quindi mi sono messa in gioco, così come si suol dire, è chiaro che la mia aspirazione o comunque la mia volontà è quella non tanto di un tempo prestabilito, ma è certamente quello di portare a casa e di riuscire a dare risultati. Quindi, certamente, il mio ospicio è che si possa continuare e che ci possa essere continuità, che è uno degli elementi più critici rispetto alla governanza delle aziende. D'altro canto, ad oggi, come ho già detto, a normativa vigente c'è un termine che non è, insomma, lontano e spererei di no, ma semmai dovesse essere, lo ripeto, sono convinta che garantiranno anche con la presenza del Presidente e su quello evidentemente sarò disponibile io, a dare continuità a questi progetti che, ripeto, sono progetti che sono tracciati in maniera chiara anche da parte della programmazione regionale. Immagino che ha trovato una situazione economica un po' preoccupante. Sì, attualmente, insomma, è chiaro che è un'area sulla quale bisogna intervenire. Bisogna intervenire anche provando ad efficientare alcune situazioni e quindi impatti che, evidentemente, potremmo avere non nel brevissimo periodo. È critica, ritengo che però sia recuperabile. Ebbè, questa è una buona notizia perché, chiaramente, noi sentiamo sempre parlare di problemi economici, di problemi che riguardano un po' tutto quello che è la situazione della sanità nel nostro territorio. Quindi, se c'è questo impegno anche da parte sua, vuol dire che lei realmente crede che questo territorio possa uscire dall'emergenza? Sì, io realmente credo che, insomma, è, ripeto, diciamo in apertura, siamo in una fase nuova. Provando a innescare, a utilizzare tutti i fondi che vengono messi in disponibilità, provando ad essere al massimo tempestivi, abbiamo delle risorse che, evidentemente, ci danno la possibilità di fare degli investimenti. D'altro canto, per quanto ci riguarda, è necessario efficientare alcune sacche di inappropriatezza che, nella misura in cui si parte, anche con l'ottimizzazione di alcuni progetti, ritengo possano venire da sé. Anche per il personale infermieristico ci sono problemi? Sì, noi, per fortuna, la situazione del Covid ci ha dato l'opportunità anche di stabilizzare un gran numero di, insomma, personale infermieristico che, evidentemente, ha lavorato durante il Covid. procederemo sicuramente, così come stiamo facendo a, come da indirizzo regionale, a, evidentemente, incrementare il numero di infermieri, prioritariamente facendo leva su eventuali gradatori già presenti, ma mai dovesse essere, anche lì si procederà con i concorsi. Quindi, in ogni caso, c'è anche la possibilità di inserire all'interno dell'ASP personale, quindi pensiamo ai nostri giovani che, magari, hanno un titolo, ma non possono essere assunti nell'immediatezza o se non partecipano a un concorso. Assolutamente sì, quello che auspico è che i nostri giovani, che, evidentemente, sono fuori o per lavoro, quindi già inseriti nel sistema, o che sono in via di conclusione dell'attività di studi, valutino fortemente la possibilità di un rientro, di un investimento nella nostra regione. Servono risorse giovani, serve un ricambio generazionale che, in questi anni, non è, ovviamente, per i motivi che conosciamo, non è avvenuto. C'è un buco importante, insomma, i professionisti, ma a qualsiasi livello, sono per lo più o in gran parte in età pensionabile e purtroppo non hanno avuto la possibilità di crearsi, insomma, o di investire su equip, su giovani capaci o comunque già pronti in loco per la sostituzione. Io spererei che, insomma, questo ricambio nel brevissimo ci possa essere. Lei ha detto, il presente Occhiuto ha messo in campo una scommessa per quanto riguarda la sanità calabrese. Immagino che anche lei abbia deciso di scommettere per questo territorio dopo che ha fatto un'analisi di tutto quello di cui ci abbiamo, di cui c'è bisogno. Sì, assolutamente sì. È una scommessa, è una scommessa che proviene proprio dalla scommessa del Presidente. Adesso io, è chiaro, non ho una lunga conoscenza del Presidente, abbiamo avuto modo di conoscerci su Roma, anche di discutere di alcune cose, però le volte che mi sono trovata a discutere con lui e il modo, comunque, la percezione o la visione sulla sanità mi ha convinto che evidentemente era una squadra con la quale, insomma, impegnarmi a giocare la partita. Dobbiamo dire che la calabresità ci contraddistingue e lei ha deciso che questa Calabria e questo territorio, per quello che sono i progetti anche del Presidente, possa essere un segnale positivo e quindi magari avere delle persone che arriveranno, che possano arrivare nella nostra città, per la nostra sanità, per la sanità calabrese, con la scoperta di una realtà molto più efficiente, produttiva e tecnologica. Io mi auguro fortemente che questo possa avvenire. È chiaro che non è un progetto che possiamo, o potremmo immaginare, concluso nel brevissimo periodo, però, chiaro, nel medio periodo spererei che la sanità calabrese possa diventare attrattiva e ritornare, insomma, a evidentemente inglobare o comunque innescare nel sistema meccanismi virtuosi e comunque di attrattività, anche per le risorse e i professionisti che vi lavorano. Io le faccio un'ultima domanda. Il suo team, lei ha confermato il personale che c'è nell'ASP, e soprattutto quelli che hanno un ruolo importante all'interno dell'ASP. Si trova bene con loro? Ritiene che è giusta la continuità piuttosto che la rivoluzione? Assolutamente. Ritengo che la continuità sia importante e il tempo, certamente, non era, insomma, non permetteva di pensare, di cambiare tutta la squadra. Questa era la mia idea iniziale. Dopodiché ho avuto modo anche di verificare, e comunque di capire che è anche di, insomma, avere io la possibilità di creare clima. Al momento è un clima che si è creato. C'è, insomma, c'è forte sintonia con la direzione strategica, ma anche con tutti gli altri professionisti che a vari livelli stanno, insomma, lavorano con me. Quindi devo dire che è un grande lavoro di squadra. Ad oggi io non registro grandi criticità a nessun livello. Spererei, insomma, di andare avanti così e di, insomma, provare a giocare, quindi questa, a vincere, o comunque portare a termine questa scommessa. Ovviamente mi riferisco al tempo mia disponibilità per avviare formalmente e fattivamente gli obiettivi che ci siamo dati. Al momento io non registro alcuna criticità e devo dire che, insomma, sono animata e quindi c'è un forte coinvolgimento per quanto mi riguarda. Il mio ufficio è sempre pieno di persone. Questo è un indicatore assolutamente positivo e quindi, insomma, mi fa credere che, insomma, la strada interprese è quella giusta. La ringrazio. Una donna al comando, diciamo, ma nello stesso tempo quello che mi fa piacere è sottolineare che parlare di sanità e parlarne in positivo, con dei progetti, con la voglia di dare una svolta a quella che è la nostra situazione, mi fa piacere. Perché lei non si è lamentata, non ha parlato in negativo. Ha detto, si possono cambiare un po' tutte le situazioni e si può dare al cittadino la possibilità di una sanità adeguata ai tempi. Sì, è un approccio che, secondo me, è necessario. Ho sentito sempre un... della Calabria, con ovviamente molta amarezza, ho sentito di tutto. Ovviamente parlo dell'area sanità. Io resto convinta che, insomma, che si può fare e altrimenti non avrei pensato di tornare nella mia terra e evidentemente anche di volerci a questo punto in un modo o nell'altro anche restare e continuare fino alla conclusione o comunque all'avanzamento del progetto. E' una terra che deve iniziare a vedere positivo, deve iniziare a pensare che, insomma, qualcosa si può fare e deve iniziare anche a percepire le sue possibilità. Continuare a stare ripiegati su se stessi, come dicevo io, insomma, chiusi, senza un confronto e con la convinzione di poter assumere il ruolo, ovviamente, che la Calabria può avere nell'ambito anche nazionale, siamo una popolazione che, insomma, siamo sotto i due milioni, quindi ci sono regioni molto più popolose, ovviamente con possibilità di posizionamento anche all'interno delle, insomma, delle discussioni diverse dalla nostra. Però la Calabria può certamente avere un ruolo e comunque recuperare un ruolo nell'ambito anche delle discussioni nazionali. Questi sono convinta che continuare a vedere tutto negativo non ci dà o non ci permette di guardare oltre. Una visione bisogna averla. Le difficoltà ci sono, le criticità sono tante, sono dieci anni di non investimento sulla sanità in Calabria. Bisogna iniziare a investire, bisogna iniziare a crederci, bisogna iniziare a fare le cose. Grazie.